Andiamo a vedere quali sono i 5 migliori aspetti per andare ad acquistare questo Huawei Mate 8 quindi come di consueto bentornati insieme allo staff di GrossoShop.net Il display è una di quelle unità che veramente ci lascia bocca aperta non raggiunge nemmeno i 400 ppi questo display targato Panasonic abbiamo una tecnologia davvero meravigliosa perché intanto la superficie è ben strutturata da parte di Huawei non sembra quasi un 6 pollici ma poi la risoluzione, il full HD ma soprattutto la leggibilità sotto la luce del sole quando guardiamo un filmato ci lascia davvero a bocca aperta, brava brava davvero a Huawei i materiali sono di primissimo ordine, abbiamo dei materiali pregiatissimi in metallo ma poi la scocca è proprio bella al tatto, in ogni rifinitura c'è davvero la mano del produttore cinese quindi anche qua facciamo i nostri complimenti la sicurezza è uno dei punti fondamentali di questo dispositivo sblocco tramite impronta digitale posta nel retro del telefono funziona 10 volte su 10 e davvero non abbiamo mai avuto dei problemi attenzione anche alla parte hardware di questo dispositivo grazie a 3 gigabyte di memoria RAM grazie al nuovo processore iSilicon Kirin 950 targato chiaramente Huawei o Octa-Core ma poi abbiamo tanto tanto hardware a bordo di questo smartphone legato anche a un po' di software grazie ad Android Marshmallow foto e video è un altro punto fondamentale ci sono tante impostazioni nell'app fotocamera per divertirci nel scattare le nostre foto ma poi abbiamo una fotocamera frontale che scatta foto a 8 megapixel ma dei video in qualità davvero eccelsa in tutte le situazioni anche in scarsa condizione di luminosità possiamo effettuare scatti molto molto validi e buoni da ostare sui nostri social network insomma questo è davvero un phablet completissimo se non il phablet noi vi salutiamo e ci sentiamo nei prossimi video ciao